ieri pomeriggio la Cavese ha sostenuto il programmato test con la Sanseverinese e ha vinto 3-0 nel finale. I Metelliani, che si preparano a fare la Serie D, hanno schierato nella loro formazione iniziale molte seconde linee, tra cui il giovanissimo difensore 5, l'esterno difensivo Polanco e il centrocampista 7, che peraltro è stato l'unico a giocare tutto l'allenamento congiunto. Mister Cinelli ha provato per un po' anche Antonelli nella posizione di centrocampista, Sov sul settore di sinistra e Piovaccari al centro dell'attacco, e ha dato minutaggio anche ai giovanissimi Scognamiglio ed Esposito. Giri di campo per Ospitalecce, il centrocampista, che non è ancora pronto per tornare in campo. Molto difficile per i Biancoblù nel primo tempo trovare le conclusioni, complici il caldo e l'attenta disposizione tattica dei Sanseverinesi, formazione iscritta al campionato di promozione, ma anche l'affiatamento non era quello che si poteva avere con i giocatori titolari in campo. Difficile anche nel secondo tempo per il calo fisiologico di chi aveva iniziato il test, e intorno al sessantottesimo minuto Cinelli ha rotto gli indugi, mettendo in campo anche le punte titolari. Segna prima al settantaseiesimo Addessi, complice una disattenzione della retroguardia della Sanseverinese, poi agli sgoccioli Ciro Foggia, su assist dello stesso Addessi, e nel recupero arriva il punto del definitivo 3-0, ancora per merito di Addessi, abile a tagliare la difesa ospite. Cinelli aveva schierato i suoi inizialmente con un 4-2-3-1, per poi passare nel corso della ripresa a un più sicuro 4-3-3. Dopo il test che la Cavesi avrà sostenuto oggi con la Scafatese, formazione di eccellenza costruita per primeggiare nel proprio campionato, quindi due test in due giorni per la formazione di Cinelli, i Bianco-Blu si dovrebbero riposare per qualche giorno, poi inizieranno a preparare il loro debutto in partite ufficiali, che avverrà domenica 3 settembre con la Palmese di Palma Campania, nella partita di Coppa. Tra qualche giorno, finalmente, la Cavese dovrebbe conoscere il girone in cui sarà inserita nel campionato di Serie D.